Salve, sono Roberta, titolare del Nido Alfantabosco. Il nostro staff è composto da sei operatrici, tra educatrici e cuoca. Il nostro Nido può accogliere 16 bambini. Ora se volete venire dietro a me vi mostro i locali. Allora questo è il nostro punto dove i bambini fanno l'accoglienza. Ognuno ha il loro armadietto, riconosciuto dalle loro foto, così possono andare direttamente sufficienti nel mettere a posto i loro indumenti. Poi qui entriamo in sezione. È una sezione polifunzionale dove tutti i mobili possono essere spostati in base all'occorrenza. Hanno tutte le ruote e il materiale è fatto quasi tutto di legno e anche i giochi sono quasi sotto in legno. Abbiamo, qui facciamo le attività, si mangia e lì c'è la cucina che è il punto preferito da tutti i bambini. Lì è dove facciamo le letture. Poi qua ci spostiamo e troviamo la zona dove ci rilassiamo dopo pranzo, dove ci sono tutti i lettini. Questi sono tutti i lettini a scomparsa. Ogni bambino all'inizio dell'anno gliene viene assegnato uno. Durante la mattina i bambini più piccoli fanno il loro riposino o nel lettino o nella sdraetta in base ai mesi che hanno. Qui abbiamo il bagnetto dei piccoli. Questo è il loro spazio per mettere tutti i bavagli e ogni bavaglio c'è la loro foto. La stessa cosa per gli asciugamanini delle mani che, anche questi, sono tutti riconoscibili dalle loro foto. Questa è la nostra cucina dove la cuoca segue scrupolosamente il menù fatto dal nutrizionista. Ogni fascia di età ha un menù. La cuoca, in base all'inserimento degli alimenti, inserisce gradualmente gli alimenti insieme ai genitori. La cucina è un vantaggio perché il mangiare è espresso, fatto lì per lì e quindi è di una qualità notevolmente migliore. Questo è il nostro spazio esterno dove i bambini possono stare liberamente, non ci sono pericoli, è tutto recintato, tutto super imbottito, i giochi sono tutti in plastica riconosciuti. E poi abbiamo questi bellissimi passeggini che sono grandi da poter uscire e andare per le campagne di San Pierino per vedere animali, piante e fiori di ogni stagione. E i bambini quando andiamo fuori sono tutti contentissimi. Il nostro stato vi saluta e per qualsiasi informazione sono a vostra disposizione.